Allora, a sorpresa, io adesso ti chiedo una cosa, stai benissimo. Ti tiro fuori un argomento che si ricollega a quello di cui stavamo parlando adesso. Tu hai detto che hai iniziato a fare doppiaggio, cinque secondi fa, con Sippo di Doraemon. Sì. Perché? Spiegalo un attimo. Perché ero andata ad accompagnare un collega a fare il provino. E quando mi trovo lì, la direttrice... L'Ubosisio. L'Ubosisio. Che era la voce di Doraemon. Che era la voce di Doraemon, che poi l'ho sostituita io dopo qualche anno, perché lei è dovuta partire per una tournée. E quindi ho chiesto... Dico, no, lei mi ha chiesto come mi fai? Vieni che ho un personaggio scoperto a fare il provino. Dico, no, no, non ci penso per niente. Perché il doppiaggio non ti piaceva? Ma no, perché io mi ero doppiata tante volte, ma in presa diretta. Però il doppiaggio lo vedevi come una cosa... Dove l'hai amato, mi hai detto? Sì, ero molto affascinata dai doppiatori, che trovavo strepitosi. Però io personalmente, siccome facevo fatica a doppiare me stessa, molta fatica, perché quando ti vedi, ti guardi, non è come vedere un'attrice. Certo. Ed è faticoso doppiare se stessi, se non hai il mestiere, soprattutto. E quindi ho detto no, e poi ci ho ripensato, ma sì, ho vinto il provino per tutti gli anni. Successivi è diventata parte della tua carriera. Parte della mia carriera. Io adesso arrivo al dunque. Come sei finita con Cattaneo a fare Kenny il guerriero? Non te l'aspettavi questa domanda? No, ma mi uccidi! Anche perché facevo... Un maschio. Un maschio di 18 anni, 16 anni. Sì, ma ci stavi perfettamente. Io da ragazzino non ho mai detto questa è la voce di una donna, mai. Non lo so come ci sono finita, probabilmente che con Bruno, io ho fatto qualche cosa che non mi ricordo prima, nel doppiaggio, e lui ha cominciato a usarmi, perché siccome io avevo questa voce anche, potevo fare il giovane, quindi la voce fresca, però avevo queste... Questo graffio. Sì, questa voce un po' graffiata, un po' sporca. Sporca, l'ho detto sottovoce. E quindi mi ha cominciato a fare... A un certo punto... Non lo so come sono finita a fare Kenny. Non te lo ricordi? No, me l'ha chiesto e io ho detto... Anche perché con lui ho fatto tantissimo in Giappone. Hai fatto Arale. Arale, sì. Tutti i cartoni suoi. Tutti i cartoni. Ma Kenny guerriero però, rispetto agli altri, aveva una caratteristica, adesso ti chiedo. A un certo punto, mentre lo facevi, non hai pensato... Ma è un po' più lento questo cartone animato? Ma mica solo quello, ma anche altri molto violenti in Giappone. Sì? Sì, sì. Però quello soprattutto. Quello soprattutto, che mi hanno fatto comunque soffrire... Addirittura. Lì, no, perché io non usavo, non avevo scene mie, vocali, in cui dovevo urlare... No, in effetti no. Il tuo era più un furbetto che scappava. Era più uno così che si dava. Sì, sì. Uno che sapeva morire. Ma altri... Io ho fatto dei cartoni di cui non ricordo il titolo, perché ne ho fatti veramente tanti. Hai fatto Arbegas. Io dico, tutti i titoli che hai fatto li sono tutti. Arbegas, Laserion, Masonicoco. Ne hai fatti tantissimi. Tutti quelli che hanno segnato la mia generazione. Su Arale facevi vari personaggi. Arale, Dr. Slump. Sì, facevi vari personaggi. Facevi una piccolina che parlava tutto così. Che parlava così, perché non sapevo più che voce fare. Esatto. Poi Zippo, poi vari altri personaggi. Però io ho fatto dei cartoni giapponesi, in cui uno addirittura faceva un mostro. Sai di questi mostri che diventano queste macchine giganti di guerra tremende. Può darsi che tu abbia fatto anche Dragon Ball. Con una voce... Ho perso la voce. Mi sono operata... Forse hai fatto anche Dragon Ball. Che poi è diventato... Perché io li ho odiati. Ma Kelly Guerriero, a un certo punto, lo facevi di servizio? Devo fare questo lavoro, lo faccio? A un certo punto ti ha preso un pochino? Ce lo trovavi divertente, il personaggio? No, io ti devo dire la verità. A parte quei mostri, sempre, più o meno, mi potevo divertire o meno, però sempre ho lavorato con amore. I personaggi ho dato sempre il massimo di quello che io ero in condizione di dare. Si sentiva, si sentiva. E che potevo dare. Poi Bart era simpatico. Bart era simpatico. E comunque io davo quello che potevo, sempre. Non mi sono mai risparmiata. Non ho mai lavorato di mestiere. Non ho mai lavorato tanto per... Basta che seguo il sync. Basta che dico le cose. Ti ricordi qualcosa di specifico di quegli anni? No. Di quella lavorazione di Dragon Ball. Non ho mai lavorato tanto per ieri ero? No. Troppi anni sono passati forse. No, troppi anni, sì. Perché prima di fare quello forse con proprio... Con Cattano di sicuro hai fatto Iattamen? No, ma a parte Cattano ne abbiamo fatto una madre, figli miei, vita mia. Può darsi. Una telenovela. Ne facevate tanti. Anche Marco Mete mi ha raccontato che faceva Mon Giro. Sì. Vabbè, insomma... Sì, sì. No, Mon Giro. Momotaro. Un telefilm. C'eri pure tu sicura al 100%. Sicuro, probabilmente. Perché eravate voi. Non mi ricordo più di... Beh, tu non te li ricordi perché tu li facevi lì, insomma, per te era lavoro. Invece io ero lì davanti alla televisione a guardare. No, ma non è solo che era lavoro, è che proprio io non davo importanza. Davo importanza a quello che facevo. Sì. Lo facevo con estrema, diciamo, pulizia, nel senso non pulizia di lavoro. Però poi non eri tu stessa una spettatrice, non ti riguardavi. Però io non ero una manieca di quello che facevo, per cui io non registravo niente. Sicuramente. Una volta fatto, era fatto. Però a un certo punto ti sarai accorta che sto che nel guerriero passavano gli anni e continuavano andare in onda? No, ma perché era onestamente violento ma bello. Era bello, sì. Perché era bello. Molto bello, le musiche, i disegni, i bellissimi. Diciamolo. Era veramente bello. E per me è un capolavoro, ancora tutt'oggi. Io non l'ho visto più. Beh, vabbè. Perché a un certo punto non l'hanno più trasmesso. Però ti posso dire che per tutti gli anni 90 l'hanno trasmesso in continuazione. Sempre? Sì, sì, sì. Come il padre nostro, tutti i giorni. Va bene, grazie, grazie alla. No, prego. Detta così, bellissimo. Ma chi è che stava ti dicendo? No, questo è il mio telefono. Io ho un piccolo canale dove condivido le cose che mi fanno piacere. so che ho un po' di amici che hanno le mie stesse passioni e che in questo modo, sentendo di parlare, ho detto queste cose io le vorrei condividere con loro, ma non raccontandole, facendoglile vivere. E questo mi sono permesso di chiederti. Ma Camilla? Camilla, come no? E lui, lui, lui si guardava Alvaruccio. Alvaruccio e Camilla era un mito. Che di brava. Alvaruccio e Camilla con Piero di Beri. E come c'era finito Piero di Beri con Cattaneo? No, non era di Cattaneo quello. Noi l'abbiamo fatto quello lì, tra l'altro non c'erano le cose che voi avete visto, che il pubblico poi ha visto, le abbiamo costruite Piero e io. Quindi tu parlavi toscana? Esatto, perché abbiamo detto a un certo punto, senti facciamolo in dialetto. Lui romano e tu toscana? Il bue che dialetto può fare? Romano, poi Piero di Beri, romano. Sì, sì. La tartaruga, io faccio la tartaruga, le tartarughe hanno questo atteggiamento e poi nella scrittura lei è saccente, puntuta, toscano. Quindi non c'è, no? Non l'avevi capito che era lei la tartarugina? È un vero. Perché lui è giovane, gli ho detto che cartoni guardi? Mi ha fatto Alvaruccio e la tartaruga. Ha fatto, vabbè, ti salvo. Se tu lo sai, mi rompe il mio goscio. Alvaruccio. Ma tu ti rendi conto che quel cartone animato magari è stato fatto così, veramente, a un passò? Eppure ha ancora successo, ancora c'è gente che... Però te posso dire, noi l'abbiamo fatto con un divertimento, una gioia, perché eravamo pieni da soli in sala. Si sente, l'avete trasmesso. L'avete trasmesso. E abbiamo tirato fuori, perché per esempio io quando stavo nella barca che andava a Maremi, io cantavo la Reficolona, ma non esisteva nella scrittura. Però vedi quanto gli avete dato. Piero, se hai inventato te possino ammazzare il latte, che non c'era scritto. Bellissimo. Ossia abbiamo inventato... Perché in romano te possino ammazzare... Eh, abbiamo inventato battute, modi di dire, o in romano o in toscano... Ma l'avete reso unico e avete fatto ridere tutti i bambini di quegli anni. Ma noi ci divertivamo come dei pazzi. Dove lo doppiavate? Lo doppiavamo in una sala che stava, mo te dico, che non mi ricordo neanche come si chiama, però non ci sono stata più, dove a fianco c'era una sala, incidevano anche i gruppi musicali importanti. Ai parioli a Piazzoclida? No, dietro... Giona Prati. Ah, sempre qui, il mio quartiere. Io sono di questo quartiere. Guarda, io non sapevo che qui facessero bim bum bam negli anni e non sapevo che ci fossero stabilimenti di doppiaggio, ma questo qua sopra era il mio oratorio. Il Mamiani e il Belli erano le mie scuole medie. Comunque, zona Prati, e c'era questo stabilimento che è piccolo, dove c'era una sala di doppiaggio, dove stiamo noi, e una sala di incisione e musica, ma dove venivano, io ci ho visto diversi divi della canzone. Ma non era l'SD cinematografica sul Lungotevere? No. Non era studio immagine? Non era qui? No, non me lo ricordo, guarda, veramente, perché io ci sono stata sola a fare Alvaruccio e Camilla lì. E comunque con Piero ci divertivamo demanzi perché eravamo soli, c'era l'assistente, però eravamo soli. Non c'era la direzione? Sì, ma eravamo soli. Eravate liberi, ho capito. Liberi, veramente liberi in tutti i sensi. E noi ci portavamo il giorno, io portavo pizzette da mangiare e Piero portava il prosecco. Ecco, quindi proprio baldoria. Facciamo baldoria, poi ridere come due pazzi, con manate sulle spalle. Bellissimo. Tutto il tempo così abbiamo fatto il prosecco. Io con Piero ci ho lavorato e ho un bellissimo ricordo, era veramente sempre carino, sempre gentile. E' una persona deliziosa, veramente deliziosa. E quindi quello è stato, mi sono divertita a fare Alvaruccio e Camilla. E noi ci siamo divertiti a guardarlo. Guarda, hai fatto un regalo ai miei amici che tu non hai idea. Beh ragazzi, io non vi conosco, però ciao ciao. Guardate, ho compiuto 80 anni due mesi fa, eh? Che sia chiaro, sono una vecchia signora, molto vecchia. Un bacione a tutti. Ciao.